Buongiorno, oggi facciamo una chiacchierata un po' particolare, andiamo un po' fuori dai soliti margini perché viaggiamo da Malachia a Papa Ratzinger. Malachia non è il Malachia della Bibbia, è un monaco, bescovo d'Irlanda, conosciuto col nome gaelico di Mehmedhog o Maholdhog, che è conosciuto per una serie di profezie sui pontefici. Chi era questo Malachia? Questo Malachia era un monaco che, a cavallo tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, ha fatto una carriera ecclesiastica notevole, direi un po' anche contro la sua volontà, è diventato primate d'Irlanda, ha conosciuto Bernardo di Clervaux, cioè Bernardo di Chiaravalle e Clervaux era un monastero cistercense che dipendeva da Sitot. Sitot è stato forse il più grande, tra i più grandi monasteri cistercensi che tra l'altro si chiamano così perché Sitot in latino si dice cistercum e quindi di lì deriva il nome. Malachia sarebbe anche stato il monaco che ha portato quell'ordine monastico in Irlanda, Irlanda di cui lui è diventato primate e poi però ha fatto la scelta di tornare indietro, cioè è tornato a fare la vita monacale. Lui ha conosciuto Bernardo di Clervaux, cioè San Bernardo di Chiaravalle, dottore della Chiesa, tra l'altro è il santo che ha scritto anche la regola dell'ordine dei Templari e Bernardo di Chiaravalle ha parlato di lui, anzi meglio ha scritto di Malachia. La cosa curiosa è che però nei suoi scritti non c'è traccia di eventuali profezie che Malachia invece avrebbe fatto in relazione ai Papi, in relazione ai Papi che vanno da Celestino II, diciamo un Papa del suo tempo, fino alla fine dei Papi di Roma, diciamo meglio fino alla fine della Chiesa. Poi vedremo come mai è collegato anche a Ratzinger. In queste profezie ci sono delle indicazioni che lui ha dato con una certa apparente precisione, identificando ogni singolo Papa con un motto latino molto breve che ne identifica, ne descrive una sua caratteristica. Queste profezie però sono uscite, diciamo in modo ufficiale, nel 1595, quindi insomma circa quasi quattro secoli dopo la vita di Malachia e quindi è chiaro che le profezie dei Papi dalla vita di Malachia fino al 1595 non possono essere formalmente considerate profezie perché quei Papi ovviamente nel frattempo già c'erano stati e difatti diciamo che le indicazioni che lui ha dato, avrebbe dato in relazione a quei Papi, sono ovviamente più precise perché sono più facilmente identificabili. Cosa diversa invece per le profezie che vanno dai Papi che si sono succeduti dal 1600 fino ai giorni nostri e dove lì le interpretazioni sono decisamente più difficili, almeno in alcuni casi, in altri paiono invece più facilmente attribuibili e identificabili. Si discute molto se queste profezie siano veramente di Malachia oppure se non siano un falso, addirittura si tira in ballo un famoso falsario italiano di quel tempo, un certo Ceccarelli che era conosciuto per produrre testi diciamo con una falsa antichità e quindi insomma tutto questo è un discorso che rimane aperto ma nel merito del quale non mi interessa neanche entrare perché poi la parte più interessante è il collegamento con Ratzinger e con ciò che sentiremo da un esperto col quale parleremo tra poco nella nella seconda parte di questo video. Io per darvi un'idea un po' di come funzionano queste profezie, ve ne leggo soltanto alcune, per esempio la prima che, come ho detto prima, non può essere considerata profezia perché si riferisce a Celestino II che è stato Papa nel XII secolo e, come ho detto, le profezie sono uscite nel 1595. Ma per Celestino II lui dice Ex Castro Tiberis, questo Celestino II era originario di città di Castello sul Tevere, quindi Ex Castro Tiberis, cioè dal Castello del Tevere e quindi questo è il tipo di collegamenti che viene fatto. Ma se veniamo invece nel periodo, quindi dal 1600 in avanti, ve ne leggo alcune così, per esempio Urbano VIII è definito con il motto Lilium et Rosa e nello stemma lui aveva delle api che volavano fragili e rose. Oppure, che so, andiamo avanti, così casualmente Pio VI, siamo nella seconda metà del 1700, è definito come Peregrinus Apostolicus e in effetti questo Papa è stato fatto prigioniero ed è stato portato, quindi ha peregrinato, tra Siena, Bologna, Parma, quindi da Roma, Siena, Bologna, Parma e quindi è un Peregrinus Apostolicus. Oppure, venendo alla fine del 1800, Leone XIII, Lumen de Cielo ed è definito da Malachia e lui, questo Papa, aveva nello stemma una stella sul fondo, ovviamente, sul fondo del cielo e per venire ancora più vicino a noi siamo a Benedetto XV che è il Papa, diciamo, della Prima Guerra Mondiale e sappiamo che nella Prima Guerra Mondiale si è realizzata veramente una carneficina con milioni e milioni di morti e milioni e milioni di persone che hanno subito gravissime conseguenze, anche fisiche, a causa del conflitto e Benedetto XV è indicato con la scritta religio depopulata, cioè la religione che ha perso gran parte del suo popolo. Venendo ancora più vicino a noi, siamo Giovanni XXIII che tutti conosciamo, che abbiamo almeno sentito nominare, lui è definito pastor et nauta e lui, sappiamo, era il patriarca di Venezia e quindi ovviamente ci sta la duplice definizione. Poi c'è Paolo VI, flos florum, che aveva nel suo stemma familiare dei fiordalisi, quindi fiore dei fiori. Poi c'è una definizione sulla quale si è discusso molto, si discute molto perché qui l'attribuzione non è così chiara, non è così evidente, è Giovanni Paolo I, sapete, il pontefice che è stato in carica, perché poi è morto, per soli 33 giorni e lui è definito come de medietate lune. Qui le interpretazioni, ripeto, alcuni dicono che nella barca della Chiesa rappresentata dalla mezzaluna lui ha rappresentato un tentativo di mediazione oppure alcuni addirittura si sono spinti a dire dal mezzo della luna e lui si chiamava Luciani e la metà del termine luna è Lu. Insomma, ognuno si è sbizzarrito e in rete trovate tutte le interpretazioni possibili e immaginabili. Dopo di lui c'è stato Giovanni Paolo II, il papa che arrivava dalla Polonia, quindi arrivava dall'est e Malachia l'avrebbe definito de labore solis, cioè dalla fatica del sole, nel senso che il sole sorge a est e apparentemente noi lo vediamo salire, quindi è nel suo momento di fatica che alcuni tra l'altro poi hanno ampliato come interpretazione e hanno detto che era un po' la fatica del grande cambiamento che lui ha portato, sappiamo che cosa è successo durante il suo pontificato. Il papa dopo di lui è definito De Gloria Olive e il papa dopo di lui è Benedetto XVI, cioè il papa Ratzinger che è quello che crea il collegamento che vedete anche nel titolo del video. Ora, De Gloria Olive, anche questo ha generato la necessità di interpretazioni, pensiamo che appunto lui si chiama Benedetto. Nella grande congregazione benedettina ci sono gli olivetani che sono entrati ufficialmente nel 1960 e questi olivetani hanno nel loro simbolo proprio i rami della pianta di ulivo, quindi De Gloria Olive potrebbe riferirsi a questo. Mi ricordo che quando è stato eletto c'è anche chi ha collegato l'elezione di papa Benedetto XVI al particolare momento di auge di cui godeva il movimento politico dell'ulivo in Italia, quindi insomma tutto è possibile. Quindi io non entro ovviamente nel merito delle singole profezie, ma il collegamento con papa Ratzinger da che cosa deriva? Deriva dal fatto che il collegamento l'ha fatto lui stesso, ma di questo parliamo dopo. Ripeto, lui stesso ha fatto il collegamento potenziale tra la sua persona e questi scritti attribuiti a Malachia. Il fatto è che Malachia non fa finire il papato romano con il papa della gloria dell'ulivo ma con il Petrus Secundus e a questo pontefice Malachia dedica non un semplice motto fatto di poche parole ma una frase intera, un periodo intero molto interessante ed è di qui anche che nasce l'interesse per il collegamento che ne ha fatto Ratzinger. Scrive Malachia, o chi per esso, in latino In persecuzione extrema Sacre Romana Ecclesiae sedebit Petrus Romanus, cioè nell'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa siederà Pietro Romano, qui passet oves in multis tribolazionibus, che pascolerà le sue pecore attraverso molte tribolazioni, sofferenze. Quibus transaptis, cioè terminate queste, civitas septis collis di ruetur, la città dei sette colli sarà distrutta, et iudex tremendus iudicabit populum sum, e il giudice tremendo, terribile, giudicherà il suo popolo. Quindi, in sostanza, secondo Malachia, o chi per esso, dopo il De Gloria Olive arriva questo Petrus Romanus, che anche qui alcuni si sono sbizzarriti a tentare di identificare, addirittura si è arrivati a fare l'ipotesi che si riferisse, per esempio, al cardinal Bertone perché noi lo conosciamo come Tarcisio Bertone, però lui ha come nome anche Pietro ed è originario di un paese che si chiama Romano, Romano Canavese, quindi il Petrus Romanus per alcuni addirittura avrebbe identificato il cardinal Bertone. Diciamo che noi non ci sbizzarriamo ovviamente né a smentire né a fare nuove ipotesi, ci mancherebbe, diciamo che però, secondo Malachia, siamo non alla fine dei tempi ma alla fine della istituzione della Chiesa ma, dico, per fortuna, diciamo noi siamo nel momento in cui forse ci toccherà vedere che cosa succederà. Ma la cosa si fa ancora più interessante proprio perché sappiamo come il pontificato di Bergoglio sia da molti contestato, cioè molti sostengono che Benedetto XVI sia tuttora l'unico vero Papa che Bergoglio quindi non sia un pontefice o meglio sia un pontefice illegittimo, un pontefice illegittimo e quindi illegittimi sarebbero anche i cardinali da lui nominati ma i cardinali sono poi quelli che, chiusi in conclave, eleggono il nuovo Papa. Insomma, la situazione è molto ingarbugliata, talmente ingarbugliata che se ne stanno occupando storici, storici della Chiesa, esperti di diritto canonico, latinisti ed è proprio questo a cui dedichiamo la seconda parte del video. Perché? Perché ho la fortuna di conoscere, di essere amico personale, con uno di questi latinisti che si stanno occupando, in modo specifico, degli scritti di Papa Ratzinger, scritti all'interno dei quali, secondo alcuni, ci sarebbe questo che è chiamato appunto il codice Ratzinger, cioè un suo particolare modo di usare la lingua latina per dirci delle cose. Però appunto, visto che abbiamo la fortuna di avere un esperto, uno di quelli ufficiali, quindi una fonte diretta che si sta occupando di questo, adesso parliamo direttamente con lui. Ecco, ci siamo con il professor Gian Matteo Corrias, che io ringrazio per aver aderito a questa mia richiesta e che saluto. Buonasera Mauro, ben trovato. Ecco, adesso fatti i saluti formali, io passo al tono più confidenziale, perché io e Gian Matteo ci conosciamo da anni, siamo amici e quindi preferisco non fingere e parliamo dandoci del tutto. Tra l'altro io sono un grande utilizzatore dei suoi lavori. Vedete proprio che sono un grande utilizzatore, lo capite anche da questi segnali che metto qui. Sono lavori, alcuni dei suoi lavori che io vi invito a seguire se siete ovviamente interessati a questi temi perché sono ricchissimi, ricchissimi di spunti. Il professor Corrias, Gian Matteo, è stato chiamato ed è uno dei personaggi esperti, lui in quanto esperto fine latinista, ad occuparsi della questione relativa alle dimissioni di Papa Ratzinger, perché la cosa pare non essere così semplice e adesso lui ce la spiegherà. Però la prima cosa che veramente mi interessa sapere è come sei finito a occuparti di questo tema, pur conoscendo ovviamente il tuo essere un fine latinista. Sì, beh in effetti capisco la sorpresa e la perplessità perché da Cicerone alle dimissioni di Ratzinger un po' ce ne passa, vero? Però la cosa in effetti non è così strana se si pensa che il testo che Ratzinger ha letto nel concistore ordinario tenutosi l'11 febbraio del 2013 durante il quale ha rassegnato le sue dimissioni era un testo scritto e pronunciato appunto in latino, che è la lingua ufficiale della Santa Sede. E in effetti come latinista sono stato invitato da una conoscenza comune con Andrea Cionci, che è il vaticanista di Libero, a esprimere la mia valutazione sulla questione delle dimissioni di Ratzinger, proprio a partire da una verifica di questo testo, di questo testo latino. Ora in effetti Andrea Cionci da qualche anno ormai, con una certa tenacia, sta portando avanti una analisi molto puntigliosa della questione delle dimissioni di Ratzinger e a quanto pare, a quanto sta emergendo, non sarebbero così pacifiche. Nel senso che proprio una verifica canonistica di quel testo e di tutto il contorno, diciamo così, storico che si sta tratteggiando intorno a quel testo, sembrerebbe validare l'ipotesi per cui in realtà quelle dimissioni non solo sono invalide, ma in realtà non sarebbero mai avvenute. Ora io capisco che questa possa essere una questione piuttosto spinosa, però oggettivamente devo dire che mi sono avvicinato alla questione appunto cineire studio, cioè con un distacco assoluto e cercando di mantenere una oggettività che d'altra parte mi è garantita dalla mia personale distanza rispetto alle questioni di cui si parla. Ora l'obiettivo di Cionci è quello, sintetizzo una questione che è abbastanza complessa e abbastanza delicata, è quello dimostrare come Ratzinger, osteggiato all'interno delle gerarchie ecclesiastiche da parte di un gruppo di potere molto ben organizzato e appunto antagonista, avrebbe in realtà soltanto simulato una abdicazione che però concretamente non sarebbe mai avvenuta e non sarebbe mai avvenuta validamente soprattutto, cioè quello che Ratzinger avrebbe fatto sarebbe questo, dimettersi dall'esercizio delle funzioni pratiche legate al suo ruolo di pontefice, non consegnando però l'investitura, l'investitura pontificia e questo lo avrebbe fatto proprio per preservare quella investitura e quel titolo dagli appetiti, diciamo così, dalla rapacità di questo gruppo di potere antagonista e creando di fatto un vero e proprio scisma all'interno della Chiesa. Scusami un attimo, a questo punto direi possiamo entrare nel merito visto che hai parlato appunto di una distinzione precisa che Ratzinger ha fatto e quindi io so che c'è una distinzione tra ministerium e munus e forse lui anche nel suo modo di utilizzare il latino ha pure lasciato aperti dei dubbi sul discorso della sede vacante. Ecco, ci puoi spiegare un po' questo aspetto? Sì, tornerei al testo, un testo che tutti penso abbiamo sentito, almeno da ITG, che oggi si può leggere sul sito della Santa Sede. Studiando però la storia di questo testo, io ho scoperto che il testo come oggi noi lo possiamo leggere, intanto non corrisponde al testo come fu pronunciato da Ratzinger e come fu pubblicato all'indomani della sua dichiarazione. E ricordo che fu il fine classicista Luciano Canfora a segnalare in quel testo più di 40 errori formali di grammatica latina, due dei quali molto gravi. E questo è un primo aspetto notevole, il testo è stato corretto. Poi effettivamente in quel testo si fa un uso molto ben distinto di due termini latini, che sono il primo ministerium, traducibile come ministero, e il secondo è munus, traducibile appunto come titolo, incarico, investitura. Ora, sul sito della Santa Sede, oltre al testo latino delle dimissioni di Ratzinger, sono fornite anche delle traduzioni nelle varie lingue volgari, le più importanti lingue di questo mondo. La cosa curiosa è che in nessuna delle traduzioni si fa differenza alcuna tra questi due termini, che vengono entrambi tradotti come ministero, cioè come esercizio pratico della funzione pontificia. In realtà però, se uno ha la pazienza di andare a vedere il codice del diritto canonico, scopre che esiste in realtà, in riferimento al potere del Papa e al ruolo del Papa, una distinzione molto netta tra munus, che è il titolo, l'investitura, tra virgolette, diciamo sacra del pontefice, e il ministerium, che invece è l'esercizio pratico di quel potere. E scopre anche che perché le dimissioni, o meglio perché l'abdicazione sia valida, il pontefice deve rinunciare al munus. Ora, la cosa curiosa, se uno va a leggere quel testo, è che Ratzinger non afferma mai di rinunciare al munus, afferma invece di rinunciare al ministero, cioè all'esercizio pratico del suo ruolo di pontefice. E questa è una cosa singolare, confermata, e questa è una parte molto interessante del lavoro di Cionci, confermata da alcune stravaganze, diciamo così, legate appunto al modo in cui Ratzinger si è posto negli ultimi anni. Per esempio, non è mai andato via dal Vaticano, e questa è una cosa alquanto singolare per uno che voglia abbandonare il proprio ruolo di Papa. Oppure non ha mai dismesso l'abito bianco, oppure ancora ha sempre continuato a firmarsi con quella sigla, pater patrum, che è la sigla, diciamo così, propria del pontefice regnante. È intervenuto diverse volte a correggere Bergoglio su diverse questioni, tutte questioni che se messe insieme e se lette, diciamo così, in un'ottica complessiva, sono probabilmente rivelative di uno stato di cose che è quello a cui Cionci allude con la sua indagine. E quindi il discorso della sede vacante o sede, ho letto di sede vacante o sede impedita? Sì, il discorso è questo. Perché Ratzinger avrebbe dovuto mettere in atto un raggiro di questo tipo? Qual era il problema? Non poteva dichiarare esplicitamente di rinunciare al Ministero conservando il munus? La questione è piuttosto delicata e appunto Cionci ritiene di poter parlare di sede impedita. La sede impedita è una eventualità prevista dal diritto canonico che si realizza nel momento in cui il Papa, ma qualsiasi vescovo, qualsiasi prelato ecclesiastico, non può esercitare il proprio ruolo liberamente. Ora, se noi riandiamo agli ultimi anni del pontificato di Ratzinger, in effetti magari ricordiamo alcuni dettagli piuttosto significativi. Per esempio, tutta la questione legata allo scandalo Vatilix. Di fatto la corrispondenza di Ratzinger era tenuta sotto controllo, era regolarmente intercettata e Ratzinger era realmente osteggiato da alti prelati della Chiesa. Io personalmente ricordo una scena che anche all'epoca mi aveva colpito. Ratzinger era, se non ricordo male, a Loreto. Passava davanti a una fila di cardinali e vescovi schierati, i quali gli negavano la mano, cioè lui tendeva la mano per stringergliela e questi invece non gli davano la mano, cioè un gesto molto esplicito di ostilità nei suoi confronti o di insubordinazione, se preferiamo. Quindi la questione sarebbe questa. Ratzinger era impedito nell'esercizio del suo ministero pontificio e per salvare appunto la Chiesa, diciamo così, dal progetto egemonico di questa classe, di prelati, avrebbe messo in atto questa strategia, bisogna dire, molto raffinata, al punto che John ci parla addirittura di un codice Ratzinger. Lui usa questa espressione per indicare tutta quella serie di frasi dette a metà, equivoche o equivocabili, dietro le quali in realtà si celerebbero dei messaggi molto chiari, anche se in codice. In effetti, scusa, quella scena a cui ti riferisci tu la ricordo molto bene anch'io ed era una scena veramente imbarazzante, perché si vedeva Ratzinger che passava di fronte a questa fila di prelati con la mano tesa e nessuno accettava questa sua mano tesa. Ce l'ho ben presente e mi aveva colpito. Il discorso quindi del codice Ratzinger va oltre la questione pura della declarazione, perché è presente, mi pare di capire, anche nelle lettere che lui, insomma nella corrispondenza che lui scambia con i prelati. Esattamente, esattamente. Inizia però nel declaratio, nel senso che i primi esempi di codice Ratzinger si trovano proprio lì. Ad esempio, quegli errori di latino di cui parlavo prima sono precisamente un modo attraverso il quale Ratzinger, che è un fine latinista, è un fine latinista e la cui competenza in materia di lingua latina è ben nota e certificata, avrebbe infarcito il testo di errori formali capaci di invalidarlo, perché ancora il codice del diritto canonico afferma che perché le dimissioni siano date validamente devono essere manifestate in maniera formalmente corretta. Il testo latino dice rite manifestatur, cioè deve essere manifestata la volontà di dimettersi rite e questo è un avverbio per chi conosce anche la religiosità della Roma arcaica fondamentale, cioè rite significa nel rispetto assoluto delle norme formali che governano il dispositivo culturale. E quindi quegli errori lì che poi sono stati corretti. Però, ad esempio, Ratzinger utilizza un verbo a proposito di ciò che deve accadere alla sede petrina dopo le sue, tra virgolette, dimissioni, che è il verbo vacce, cioè nelle traduzioni che noi leggiamo sul sito della Santa Sede, si trova la traduzione resti vacante, sia vacante, che allude a una eventualità prevista dal codice del diritto canonico, dopo la morte o le dimissioni eventualmente di un papa, la sede è vacante fino a quando non viene eletto il suo successore. Però, letteralmente, il verbo vacare significa essere vuoto. Allora, basta che noi intendiamo il verbo latino vacare per quello che significa e la cosa cambia completamente. Cioè, Ratzinger ci sta dicendo il seggio pontificio, la sede pontificia resti vuota, resti vuota e questo, come si capisce, cambia tutto. Ovviamente Ratzinger ha continuato a parlare in codice, ci sono alcuni esempi molto divertenti anche. Per esempio, a proposito della veste bianca di cui parlavo prima, quando, se non ricordo male, il giornalista, il vaticanista celebre Andrea Tornielli gli chiese, ma Santità, come mai lei continua a indossare la talare bianca? Ratzinger ne uscì con questa risposta, nel mio armadio non ho trovato talari di altro colore. Ora, dal 2013 sono passati quasi dieci anni a questo punto. O sono morti tutti i sarti di Roma, oppure c'è qualcosa di più rispetto a una semplice coincidenza, no? Oppure ancora esempi di codice Ratzinger. Riferisco quindi il lavoro fatto da Andrea Cionci, interessantissimo. Per esempio, in un'intervista del 2016, rilasciata al giornalista tedesco Peter Sevald, Ratzinger afferma una cosa che è sorprendente per chi conosce la storia della Chiesa. Ratzinger afferma a un certo punto che nessun papa si è dimesso negli ultimi mille anni. E anche nel primo millennio questa eventualità è stata piuttosto rara. Ora, noi sappiamo che negli ultimi mille anni sono quattro i papi che hanno abdicato, tra i quali il celeberrimo Celestino V, Pietro da Morrone. Ora, è possibile che Ratzinger affermi una cosa del genere e il papa affermi una cosa del genere lasciandosi scappare, diciamo così, uno strafalcione dal punto di vista storico? Eh no, perché è vero che nessun papa si è dimesso. Quei quattro papi hanno abdicato, cioè hanno rinunciato non solo all'esercizio pratico della sovranità pontificia, ma anche all'investitura pontificio, cioè anche al munus. Quindi Ratzinger in effetti non sta commettendo un errore ad affermare una cosa del genere, sta affermando che lui è il primo papa dell'ultimo millennio che ha rassegnato le dimissioni dall'esercizio pratico, conservando però il munus. E questi sono esempi, sì, di codice Ratzinger, ce ne sono tanti altri, insomma, che più o meno raffinati, più o meno grossolani. Ne posso citare anche un altro che secondo me è abbastanza interessante. Non ricordo ora in quale contesto, ecco, in una lettera, era una lettera che lui scrive al cardinale Brandt Müller, se non ricordo male, un suo amico personale, il quale gli aveva manifestato un certo rammarico per la sua decisione di dimettersi. Ratzinger gli scrive una lettera che poi è stata pubblicata in cui gli dice ma cosa avrei dovuto fare? E gli cita l'esempio molto interessante di Pio XII, il quale lasciò disposizioni di questo tipo. Nell'eventualità in cui il pontefice fosse finito prigioniero dei nazisti, sarebbe immediatamente decaduto dal suo ruolo. Ora, non è tanto l'effetto della rinuncia qui interessante, quanto proprio il papa che Ratzinger era scelto come esempio e soprattutto la circostanza in cui avrebbe dovuto decadere dal ruolo di papa, perché si parla di un papa che viene addirittura fatto prigioniero. Ora, avvicinare se stesso e la propria condizione a quella di un papa che avrebbe potuto finire prigioniero dei nazisti è piuttosto interessante. Certamente, certamente, veramente, guarda, le cose che ti stai dicendo sono di un interesse straordinario. Io sono sempre più incuriosito da questa vicenda che appunto mi interessa seguire e ho la fortuna di avere te come amico. Senti, c'è un'altra cosa curiosa che il papa ha fatto. Mi risulterebbe che abbia addirittura citato le cosiddette profezie di malachia. Da qualche parte, non ricordo dove, se in una lettera o in un'intervista. Tu hai modo di dirci qualcosa? Sì, sì, conosco bene la questione e in effetti è davvero, davvero molto interessante. E ancora l'intervista che Ratzinger ha rilasciato a Peter Sevald. Tra l'altro è un'intervista disponibile, è stata pubblicata da Garzanti, Ultime Conversazioni, se non ricordo male, nel 2016. Allora fu proprio il giornalista, Sevald, a richiamare le profezie di malachia che sarebbero un testo medievale o tutto al più del primo rinascimento, in cui si stila una lista dei papi che sarebbero, se non ricordo male 266, dopo i quali, 266, a ognuno dei quali si allude attraverso un brevissimo motto latino, ci sarebbe il regno di questo Petrus Romanus, che sarebbe anche colui che accompagna la Chiesa alla fine dei tempi, diciamo così. Ora, il 266esimo pontefice dovrebbe essere proprio Ratzinger. E siccome è l'ultimo, perché Petrus Romanus, a quanto risulta dal testo della profezia, è più che altro un presentato come un irregolare o un usurpatore, Ratzinger dovrebbe, se si accetta questa profezia, dovrebbe essere appunto l'ultimo papa. E allora Sevald gli chiede, ma lei conosce le profezie di malachia e sa benissimo che, secondo queste profezie, lei potrebbe essere l'ultimo papa. Ora, risposta di Ratzinger, tutto è possibile. Tutto è possibile quando c'è regnante il suo successore, che è Bergoglio, è una risposta davvero molto interessante, davvero, davvero molto interessante. Veramente, di cui lasciamo veramente spazio ai pensieri e alle elucubrazioni e alle considerazioni di ciascuno. Senti Matteo, io ti ringrazio a questo punto perché ti hai fatto veramente un quadro completo di una situazione non facile, ma tu hai saputo spiegarci con una semplicità incredibile le differenze precise tra Ministerium, Munus, sede vacante, sede impedita e, insomma, questa sottiviezza di Ratzinger nel comunicare un qualcosa senza dirlo esplicitamente, ma utilizzando volutamente la lingua latina in modo tale che chi ha orecchie per intendere può intendere, veramente. Quindi io ti ringrazio davvero e speriamo di risentirci presto, magari per aggiornamenti anche su questo tema. Volentieri, Mauro. Ciao, grazie tante e un saluto a tutti e a tutti gli amici del canale. Grazie e alla prossima.